Questo è un spielo francese, è molto importante. Abbiamo detto che non è un spielo francese per noi, è un spielo per punti. Potete uscire? Sì, è stato un amichevole, però è stato un amichevole importante per noi, perché il mister ci tiene, poi l'abbiamo considerato quasi come una partita del campionato, perché volevamo fare una bella figura e giocare seriamente a tutti i costi. Abbiamo visto anche i nostri buoni e i nostri buoni. Abbiamo fatto vedere il nostro lato positivo e anche il nostro negativo. Abbiamo visto anche il secondo gol che abbiamo preso, è un gol che era da evitare. Abbiamo visto che non siamo ancora completati. Ci sono ancora un po' di spielerci. Ho spero che nei prossimi due o tre spielerci avremo sicuramente 20-30% di spielerci che adesso. la squadra è ancora in movimento, alcuni giocatori sono tornati, per cui ci serve ancora un po' di tempo. Però sono convinto che con il tempo adesso la squadra crescerà sempre di più e crescerà di 20-30% che manca ancora. Era molto contento con la squadra, perché spesso è molto difficile di motivare. la squadra, quando sa che dopo due giorni liberi la fine del ritiro, poi comunque il ritiro è stato lungo, per cui è stato molto contento della risposta che ha dato la squadra. Ma questa squadra ha già il carattere e quindi ha fatto tutto questo, 3-2 è un buon risultato, in particolare contro una liga o una liga o una liga, una liga, liga. Arrivederci che la risposta che ha dato la squadra è stata una risposta molto positiva, considerando che comunque abbiamo vinto contro una squadra della Bundesliga, a casa loro. Quanto è simile alla formazione titolare, quella che abbiamo visto oggi? Tomiyasu a destra, a destra, centravanti. Non, abbiamo ancora ancora una squadra di titolare, abbiamo ancora ancora una squadra. Abbiamo ancora ancora una squadra di 11, ma non posso dire che ci sono ancora una squadra, ma 15 squadri sono già vicino alla squadra di 11. Erf. Allora, comunque la squadra sta crescendo, la squadra si sta formando, ovviamente non abbiamo ancora trovato 11 titolari, però i primi 15-16 giocatori sono molto vicini a poi essere i primi 11 titolari. materiale. Bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.